Salve a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi propongo un progetto istruttivo e al tempo stesso anche utile. Vedremo infatti come realizzare un pratico tester per pile utilizzando un arduino e una manciata di componenti. Nel video userò indifferentemente i termini pila o batteria, riferendomi però sempre a queste, ovvero le comuni pile alcaline usa e getta. Prima di proseguire volevo invitarvi, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale e anche a lasciare qualche commento per farmi sapere se apprezzate o meno i video o anche solo per proporre idee o spunti per gli argomenti che vorreste vedere trattati su questo canale. Vediamo quindi la sigla, dopodiché passeremo alla descrizione del progetto. In molti pensano che per verificare lo stato di una pila sia sufficiente misurare la tensione ai suoi capi con un tester. Sebbene questo sistema venga spesso suggerito anche da molti esperti, anche alcuni miei colleghi lo fanno, è un metodo che non ha molta validità, tanto varrebbe provare se la pile è carica toccando i poli con la lingua, come fa ogni tanto qualcuno con le batterie da 9 volt. Questo perché la tensione a vuoto, ovvero quando la batteria non sta erogando corrente, può essere molto vicina alla tensione nominale anche se la pile è scarica. Per avere una lettura attendibile la tensione deve essere misurata con un carico applicato, cioè mentre la batteria eroga corrente. Per valutare velocemente se una batteria ha ancora qualcosa da dare o posso buttarla a cuor leggero, alcuni anni fa ho costruito questo tester, che mi dà un'indicazione abbastanza affidabile della reale capacità residua. Dal punto di vista estetico non è sicuramente granché, ma è molto affidabile e lo uso spessissimo. Vediamo allora come funziona. Quando viene collegata una batteria il circuito assorbe dai suoi capi una corrente costante. La batteria viene quindi testata per così dire sotto sforzo. La corrente può essere impostata tramite questo trimmer sul retro e il valore, in questo caso 100 mA, si può leggere direttamente sul display. Vi faccio notare che la corrente, una volta impostata, rimane sempre la stessa, indipendentemente dal livello di carica della batteria e anche dal voltaggio della stessa. Una volta che la pile è messa in condizione, per così dire, operativa, la tensione ai suoi capi viene misurata tramite un microcontroller. È visualizzata sul display in forma sia numerica che grafica, in modo da avere un'indicazione immediata del livello di carica. Vediamo allora come realizzare un tester simile con Arduino. Premetto che, per semplicità, il circuito che vi mostrerò è adatto solo per testare le batterie da 1,5V. Non provate con quelle da 9 perché danneggereste l'Arduino. Per prima cosa vediamo il circuito che serve a fornire il carico a corrente costante alla batteria sotto test. Questo è lo schema e ora cercherò di descriverne brevemente il funzionamento. Il circuito è basato su di un comune amplificatore operazionale. Ho usato un LM358 che è fra i più diffusi ed è molto facile da reperire. Questo integrato in realtà è composto da due amplificatori, ma a noi ne basta uno soltanto per cui l'altro rimarrà inutilizzato. Tramite il partitore composto da R1 ed R2, all'ingresso non invertente dell'operazionale viene applicata una tensione di circa 450 mV. L'uscita dell'amplificatore pilota la base di un transistor che ha il compito di regolare la corrente che attraversa il resistore R3. Questa corrente viene prelevata direttamente dalla batteria sotto test. Il terminale superiore di R3 è collegato all'ingresso invertente dell'operazionale. In questo modo il punto B del circuito viene mantenuto allo stesso potenziale del punto A, cioè circa 450 mV. Dal momento che il resistore ha un valore di 3,9 Ohm, la corrente che lo attraversa sarà di circa 116-117 mA, indipendentemente dalla tensione della batteria. Cambiando il valore di R3 si può variare la corrente di prova. Utilizzando ad esempio un resistore da 1,8 Ohm, la corrente sarà intorno ai 250 mA. Come transistor potete utilizzare qualsiasi NPN in grado di sopportare una corrente di almeno 300 mA e dissipare una potenza di almeno 500 mW. Io ho utilizzato un BD139 semplicemente perché è quello che avevo a portata di mano. In realtà vediamo dalle caratteristiche che è molto sovradimensionato. Un'ottima alternativa potrebbe essere il più comune BC337. Una volta applicato il carico alla batteria possiamo misurare la tensione ai suoi capi utilizzando uno degli ingressi analogici dell'Arduino, in questo caso l'A0. Per aumentare la precisione, visto che stiamo misurando una tensione molto bassa, conviene usare come riferimento per il convertitore la tensione di 3,3V invece dei 5V di default. Per farlo occorre collegare il piedino RF direttamente al piedino 3V3. Il firmware che vedremo è già predisposto per questa modalità di funzionamento. Il risultato della misurazione viene visualizzato su un comune display LCD alfanumerico di quelli con l'interfaccia I2C. I collegamenti sono semplicissimi. Oltre ai terminali di alimentazione occorre collegare la linea SDA al piedino A4 e l'SCL al piedino A5. E qua vediamo lo schema completo del circuito. Passiamo adesso al firmware per il funzionamento. Nella descrizione del video ho messo il collegamento alla pagina col codice che potete copiare e incollare direttamente nell'IDE di Arduino. Il firmware è abbastanza semplice e ben commentato. Vediamo comunque brevemente alcune personalizzazioni che si possono fare. Per prima cosa possiamo impostare l'indirizzo I2C del display. Questo di solito è 0x27 oppure 0x3F a seconda del modello. Modificate quindi questa linea in base a quello che state usando. A seguire abbiamo la direttiva per cambiare la tensione di riferimento. Se come vi ho consigliato avete collegato il piedino ARF al piedino 3V3 questa linea deve rimanere così. Per utilizzare invece il riferimento di default a 5V è sufficiente commentare la linea. Il circuito funzionerà ugualmente ma la precisione sarà leggermente minore. E per finire possiamo impostare la soglia di tensione minima. Quella cioè sotto cui il tester indicherà la batteria come totalmente scarica. Potete cambiare questo valore a piacimento visto che influisce solo sull'indicazione della barra grafica e non sulla visualizzazione numerica della tensione. Io l'ho impostato a 1,1V. Tenete presente che anche sotto questo valore le pile possono ancora andare bene per alcune applicazioni ad esempio nel telecomando della televisione. Per chi non dimestichezza con gli schemi tradizionali metto anche l'immagine dei collegamenti pratici per realizzare il circuito sulla breadboard. Ricordate il collegamento fra il piedino ARF e il piedino 3V3 e se utilizzate un transistor diverso dal BD139 fate riferimento allo schema che abbiamo visto prima perché la disposizione dei terminali potrebbe essere diversa. Ed ecco qua la mia versione. Come vedete per R3 ho utilizzato una resistenza piuttosto grande, dovrebbe essere da 2 W. Il motivo è che avevo solo questa a disposizione. In realtà potete usare tranquillamente un normale resistore da un quarto di W. Ora carico il firmware ed ecco il circuito pronto all'uso. Per testare la batteria è sufficiente collegarla col negativo a massa e col positivo al piedino A0. Come dicevo il circuito così com'è è utilizzabile solo per le pile da 1,5V. Per adattarlo alle pile da 9V occorre fare qualche modifica. Se siete interessati fatemelo sapere nei commenti e valuterò se fare magari un video dedicato. Bene anche per questo video è tutto. Mi raccomando lasciate un mi piace se vi è stato utile. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi progetti. Ciao a tutti.